Benvenuti in questo nuovo video informativo slash videoprova perchè video informativo e videoprova? perchè ultimamente è successa una cosa però va avanti da un po' di tempo diciamo però ultimamente molti di voi mi hanno contattato sia su youtube che su skype dicendomi che mi hanno visto nei server SPHX ora non so se si dice SPHX credo di si però se non si dice così diciamo non ci soffermiamo su questa cosa più che altro soffermiamoci su le cose che vi dico fra poco in pratica molto tempo fa ho richiesto di essere aggiunto alla whitelist per giocare nei server Hunger Games appunto degli SPHX dopo un po' mi hanno aggiunto però non sono mai entrato in questi server, cioè non ho mai settato il mio account e quindi non ho mai aggiunto una password quindi cosa è successo? visto che mi trovavo nella whitelist un ragazzo, una persona con l'SP è entrato con il nome Mike Jakes ovvero con il mio nome all'interno dei appunto SPHX e appunto ha creato un suo account in che senso? ha settato l'account inserendo la password quindi ha inserito lui la password e non io ovvero un'altra persona e non Rapa Games questo che significa? che diciamo si non hanno rubato l'account perché comunque si hanno rubato comunque il mio nome in che senso? non hanno la mia password di Minecraft né di altre cose ma hanno solo il mio nome cioè il mio personaggio con l'SP la password invece l'hanno settata da loro quindi neanche io la conosco e quindi video prova perché? questo è un video informativo per dirvi che in quel server non sono io quindi non nei server cioè non un server perché sono più server gli SPHX comunque in quei server non sono io e comunque quel personaggio quel Mike Jakes che non sono io Akera infatti perché video prova? perché potete vedere in background non solo uno stamp che ha fatto un mio amico di appunto della partita dove ci sono io ma anche un video dove si vede che questo personaggio Akera usa Linebot il video l'ho trovato appunto una persona questa persona ha commentato il mio video e ho visto il suo canale ho visto appunto questo video si chiama un hacker davvero giocoso e appunto in questo video si vede il mio personaggio Mike Jakes che Akera ovvero usa Linebot prima che iniziasse la partita infatti nei commenti questo ragazzo ha detto no non è rapa e così via quindi vi dico che non sono io questa è la prova la prova è che c'è questo mio amico ha trovato c'è ha fatto lo stampo appunto che questo Mike Jakes giocava ma non sono io tra l'altro potete anche c'è ho sul forum degli SPHX ho creato un post dove c'è scritto che non sono io e così via per appunto farmi resettare l'account e quindi per settare io la password per giocare con voi questa sarà questa sarà anche una videoprova per gli admin così avranno una prova potranno vedere che non sono io e basta sì il video di oggi termina qui non so più che altro farvi vedere perché appunto c'è vi ho informato che comunque non sono io le prove sono quelle che avete visto prima c'è il video che vedete anche in descrizione c'è trovate sia il canale che il video e lo stamp che ha fatto il mio amico quindi troverete anche il canale del mio amico potrete farci un salto e magari iscrivervi se vi piacciono i video noi ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale se volete mettete mi piace cioè non chiedo di mettere mi piace che comunque non è uno spotlight iscrivetevi al canale e commentate dicendomi quello che volete anche consigliandomi mod perché diciamo potete sia soffermarvi sull'argomento che comunque consigliarmi qualche mod noi ci vediamo al prossimo video e grazie per il like grazie per l'iscrizione e grazie per il commento bella